E' stato fermato l'uomo che ieri a Vittoria, nel Ragusano, avrebbe tolto la vita con una serie di coltellate ad una donna di 37 anni, originaria dell'Albania. L'uomo è stato individuato dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza, rintracciato nella notte e condotto in caserma. Il provvedimento di fermo è stato emesso nella notte. L'indagato pare abbia ammesso di essere l'autore dell'omicidio. Secondo indiscrezioni, l'accoltellamento della donna sarebbe stato un gesto estemporaneo e immotivato. Grazie a tutti.